Benvenuti, buonasera a tutti e grazie per essere con noi in occasione di questo interessante incontro con il Cavaliere Maurizio Sella, Dottor Maurizio, come mi ha appena confermato che ha piacere di essere chiamato in azienda, organizzato dal Movimento Nazionale dei Giovani De Lucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, di cui sono Vicepresidente Nazionale insieme all'amico Benedetto Delecite che sarà il nostro prossimo Presidente. Vi porto i saluti anche del nostro attuale Presidente dei Giovani Pierluigi Germani e del Presidente Nazionale Gianluca Galletti. La mia bellissima esperienza nel Movimento Giovani termina dopo molti anni, tra pochi mesi e vorrei pubblicamente appunto cogliere l'occasione per ringraziare tutti i miei amici e colleghi del Comitato di Gestione dei Giovani, De Lucid che mi hanno aiutato, mi hanno dato tanto e ai quali penso di aver dato altrettanto. Servire in Ucide è per me un onore, un piacere molto arricchente per il bene che generiamo soprattutto verso le nuove generazioni come testimonia all'evento di stasera, tutto dedicato a voi giovani. L'incontro prevederà, come avevo anticipato prima, al Dottor Maurizio un primo momento in cui lui stesso si racconterà e quindi non lo sto a rappresentare anche se nella locandina trovate una sua completa e ampia presentazione oltre che alcune informazioni rispetto al percorso De Lucid Academy. Successivamente ci sarà appunto il vostro momento quindi vi prego di non essere timidi, anzi di fare domande, di porre consigli, integrazioni, contributi, tutto ciò che per voi è importante. Mi prendo proprio un minuto e mezzo di orologio per presentare la nostra associazione a coloro che ce ne sono alcuni, ci sono avvicinati per la prima volta rispetto a giovani a Ucide. La nostra associazione è nata nel dopoguerra da famiglie imprenditoriali, industriali milanese, lombarde, come la famiglia Falc che ha sempre accompagnato anche nella sezione di Milano e del Lombardo la nostra associazione. Noi ci attiviamo sempre, ci impegniamo ad attivare processi di cambiamento, volte al bene comune, da parte sia di imprenditori che di manager, perché per noi il fare impresa prima di avere un significato professionale ne ha uno umano. Nell'attrare nuovi soci ci impegniamo a trattare con grande efficacia e pragmaticità temi legati alla sostenibilità, all'inclusione, al welfare, alle diversità, alla leadership responsabile, alla coesione sociale e ai giovani. Tutti valori che si ispirano ai principi del cristianesimo e della dottrina sociale della Chiesa. Per noi la formazione è molto importante, soprattutto è espressa e richiesta dai soci che entrano ultimamente in UCI, proprio perché il nostro percorso è informativo ma deve essere anche un po' formativo. Formativo da un punto di vista di anime, di spiritualità, perché alcuni imprenditori ci insegnano proprio che siccome ci sono degli alti e bassi, proprio quando ci sono i bassi è importante rialzarsi perché si rialzano tutti, diciamo che ci si rialza volenterosi nel bene ma anche un po' più cattivi e aggressivi. L'importante è rialzarsi nel modo giusto e quindi avere una importante base morale e valoriale che ci possa contraddistinguere. Ci sono alcune domande che nell'ultima ricerca che abbiamo fatto con l'Università Cattolica del Sacco Cuore possono aiutare diciamo noi un po' più adulti a capire meglio i giovani, ovvero come i giovani percepiscono il mondo in cui stanno vivendo e cosa intendono per esempio per autoimprenditorialità, quali difficoltà vengono dalla propria realizzazione personale, familiare e lavorativa e quali aiuti i giovani stessi riterrebbero utili e per quei giovani, come è il caso della famiglia Sela, che vivono già in famiglia una dimensione imprenditoriale, come vivono questo possibile passaggio generazionale, come un processo, come una bella esperienza. Ecco, UC Giovane Academy si articola un po' come un gruppo permanente di formazione che si pone l'obiettivo di ascoltare imprenditori, manager che hanno qualcosa in più da dare oltre alla propria carriera, un'attenzione alla persona, ai valori e questo è molto importante per chi, come magari alcuni di voi, è un giovane start-upper, come si dice oggi, quindi un'impresa avviata fuori dall'azienda di famiglia o diciamo come imprenditori di prima generazione, come vi auguriamo, se andrà bene dovrete essere testimoni di assunzione, di personale, ecco, penso che una carta di valore anche immaginaria sia importante darvela fin dall'inizio. L'illustre relatore di questa sera, che era ancora in grazio di cuore, come ho detto prima, non ha bisogno di presentazione, siccome il momento è tutto vostro, io mi metto in modalità di ascolto, mi taccio e auguro buon lavoro e ancora grazie a voi tutti e al dottor Mauizio. Grazie, prego. Grazie, grazie. Mi dica solo se mi sente bene. Benissimo. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio il vostro vicepresidente nazionale Stefano Devecchi, ringrazio Lucid. Per me, Lucid Di Biella continua a inviarmi le loro lavori, le loro cose, mi informano su tutto, ma sono un pessimo frequentatore. Ho frequentato di più, fra il 78 e l'88, l'Uniapac a Bruxelles, che deve essere la vostra organizzazione internazionale. Allora ci occupavamo non di come si gestiscono le imprese, ma come si gestisce il rapporto fra la famiglia e l'impresa. E inizio parlando di me stesso proprio dalla famiglia. La famiglia è una famiglia imprenditoriale antica, se le carte le abbiamo dal 1570, e passo in fretta i secoli, perché se no mi fermo in quel periodo, devo dirvi che in tutti il 600 e nel 700 noi eravamo tintori, ma lo smart working era la base del lavoro, perché le donne filavano la canocchia a casa e facevano il filo, i selli lo ritiravano e lo davano agli uomini che in altre case mannovravano i telai a mano, perché il telai meccanico non c'era. E quindi per due secoli lo smart working è stata la base del lavoro dei nostri operai e poi hanno cominciato a essere trasportati negli edifici industriali con qualche protesta allora. Un sella, perché ci occupiamo di innovazione, portò la rivoluzione industriale in Italia, dal tessile laniero inglese e soprattutto dal macchinario belga, e poi altri selli in quel secolo nel 1800 si occuparono dell'idroelettrico, si occuparono della fotografia, portando le loro capacità di tingere la lana, il filo o il tessuto, in una grande, diciamo così, capacità professionale che permise una parte, l'accumulo di una parte delle fortune della famiglia. Erano però troppi maschi e mio nonno fu richiesto di costituire una banca, costituì la bancasella e quindi diventammo banchieri, non siamo in Nokia perché non abbiamo 200 anni nello stesso tipo di attività, ma solo 135 in banca. Dopo mio nonno, mio padre, dopo mio padre arrivo al sottoscritto. Allora non possiamo non tenere in conto che io ho mangiato pane banca fin da bambino, non c'è dubbio, e quando avevo cinque anni lasciai una cugina che non veniva, io sono del 42, quindi nel 46, quattro anni, lasciai una mia cugina insieme di bastoncini, di fiori, con un elastico attorno, ben messi, e le dissi questa è la mia banca, mi raccomando tienila per luglio e agosto che eravamo in Riviera e che quando torni sia intatto. o non avevo capito che si può cambiare sede, ma certamente vi rendete conto che era difficile che poi nella vita io mi occupassi d'altro. Mio padre mi chiese ma perché non vai nella industria laniera, avevamo ancora allora la lana a gatto, la filatura e tessitura, ha detto lei, mi disse no papà, vado in banca. In banca ho voluto fare, ma forse me l'hanno imposto anche perché era la tradizione di famiglia, tutti i lavori materiali, ho fatto il cassiere, ho fatto il commesso, ho fatto tutto quello che occorreva per imparare il mestiere, perché il nostro concetto in un'impresa familiare ma non è solo nostro e che è difficile guidarla se quelli sotto di te capiscono del mestiere e se tu non capisci niente perché non l'hai mai fatto. E quindi ci vogliono tre o quattro anni per riuscire a mettere tutto in ordine, nel senso di mettere in ordine le mie conoscenze del mestiere. Fatte i quattro anni chiesi a mio padre se potevo occuparmi con lui, io amavo molto mio padre, di contenzioso, cioè dei debitori che non pagano. Fatte mi disse ma neanche per idea, litighiamo subito, occupati di qualunque cosa ma non di questo mestiere. E io andai dallo zio Giorgio, che era suo fratello, che era l'amministratore delegato, gli dissi eravamo piccoli, eravamo in 150, 130. Gli dissi va bene, di cosa mi fai occupare? dice di organizzazione. Sono uscito come l'unico amministratore delegato di banca che viene dall'organizzazione e non dagli affari. Bene, una piccola notazione. I Sella per 200 o 300 anni si sono sempre occupati di sviluppare l'economia locale, di aiutare gli operai, di guardare il loro risparmio, di costruire case perché potessero venire ad abitare qualora fossero emigrati. E quindi il nostro restituire alla comunità locale e anche il mio restituire alla comunità locale della zona d'origine, perché oggi siamo in tutta Italia e quindi è più difficile, è una cosa che ho mutuato fra l'altro proprio dall'Uniapac, ma è una nostra antica abitudine. Quindi l'attività di famiglia è un'attività che non può non tener conto della sostenibilità. Quando oggi si parla di sostenibilità sociale a me viene in parte l'entusiasmo, il paese ci arriva, il mondo ci arriva, ma dall'altra viene un sorriso dicendo noi abbiamo praticato quella sostenibilità per tanto tempo e essendo poi discendenti di uno che ha fondato il club alpino, tutti alpinisti, tutti in mare, tutti amanti della natura, siamo anche con le centrali idroelettriche, con i pannelli solari, con non mettere acqua calda nei fiumi, cioè con tutta quella attenzione, ma da tempo, non solo da adesso, che occorre avere ed è anche ovviamente la mia attenzione. Bene, dopo aver fatto tutta la pratica, quando avevo otto anni di banca e il mio coppai del personale, allora non numeroso, ma mio padre morì di tumore in maniera anticipata, aveva solo 70 anni e quindi si trattò, eri vecchi, di trovare un nuovo amministratore delegato. Con qualche dispiacere di mio fratello, che era più anziano di me, la scelta cadde su di me e io mi dedicai totalmente alla banca e mi dedicai anche alla famiglia e ai principi di conduzione della famiglia, le regole. La prima è che viene prima l'azienda e poi la famiglia. Se si vuole essere lungimiranti e durare nel tempo, questa è la prima regola. La seconda è l'unione, la concordia, quanto mi sono dedicato. Il non litigare. Se si litiga fra azionisti in capo l'azienda, lo vediamo noi da banchieri quando facciamo credito, le probabilità che l'azienda vada male sono molto alte. Quindi l'unione dei familiari non impedisce che chi vuole uscire possa uscire a un giusto prezzo. E quindi chi non ci crede, chi vuole far d'altro, se ha dei capitali investiti nell'azienda. Ma deve dare il tempo a quelli che restano in azienda di riperire i mezzi. Quindi uscire sì, ma pagamento dilazionato nel tempo. Io poi sono il tifoso, ma spesso lo è stata nei secoli la mia famiglia, che la famiglia deve essere relativamente povera e l'azienda relativamente ricca. Perché? Perché se l'azienda è ricca, ha i mezzi per superare i momenti di difficoltà che capitano sempre. Vi ricordate la crisi finanziaria del 2008? Guardate il Covid adesso, ma ricordatevi la crisi del 1992, quando la lira contro Deutschmark andò a 1300. E andando indietro, ricordatevi il 29, il 26, col discorso di Mussolini a Pesaro che rivalutò la lira contro la sterlina a quota 90. Fu un disastro perché tutti i venditi vennero rivalutati. Presi del 29, le guerre. Quindi se l'azienda è ricca, ha i mezzi per poter continuare a testa alta, con la schiena dritta, senza dover fare compromessi o senza cedere. Questo si può sempre cedere, la famiglia può sempre cedere l'azienda, ma io faccio parte di quel gruppo che ritiene che l'azienda debba restare in famiglia. Quindi bisogna distribuire dividendi contenuti e comprare azioni proprie da chi vuole uscire in misura limitata. Diciamo che un 10-12% dell'utile netto consolidato di gruppo si può distribuire. Noi come famiglia, come avete capito, e io stesso, abbiamo sempre investito fortemente nell'innovazione. L'innovazione è stata per noi veramente il leitmotiv, con prudenza all'inizio, ma in maniera sufficiente. Ricordo, se mi permettete, un caso mio. Nel 1972, ero da sei anni in banca, andai dal padre, che era presidente, a dirgli, caro papà, dobbiamo comprare un nuovo mainframe. Allora banca delle nostre dimensioni mainframe non ne comprava. Papà mi guardò e mi disse, ma cosa costa? 800 milioni di lire, gli disse. E lui mi disse, ma lo sai che abbiamo un capitale riservo di un miliardo e due? E io gli dissi, lo so, ma stai tranquillo, è il modo di svilupparci. Ma ti fidi? Sì, vai pure avanti. Cioè la fiducia grande dei nostri vecchi verso i giovani. Io non l'ho fatto molto diverso con Pietro, che adesso è quello che ha in mano il gruppo, e con Federico, che ha in mano la gestione dei patrimoni, per citare parenti che oggi hanno il carico della gestione. Quindi siamo sempre stati fortissimi nell'innovazione. Non vi annoio elencando le innovazioni a partire dal 1700 che abbiamo messo in atto, ma sono veramente, ne ho detto già qualcuno all'inizio. Straordinario. Se i figli entrano in azienda e fino ad oggi sono entrati tutti quelli che lo volevano, la carriera la si fa solo in proporzione alle capacità. Non c'è nessuna possibilità di poter fare una carriera e in competizione con tutti gli altri manager non di famiglia. Non si può fare diverso perché non si può dare la responsabilità a un parente che non ne abbia le capacità. Anzi, spesso i parenti devono avere quasi più capacità dei manager, perché i manager ogni tanto tirano il tappeto ai parenti per vedere se sono capaci. E quindi bisogna avere un livello di serietà, di impegno. Riprendo quello che lei ha detto. Noi abbiamo una nonna paterna, la moglie del presidente fondatore della banca, che era scozzese, e lei ci ha sempre detto, nella gestione dell'impresa, morality is longevity. Senza moralità non c'è longevità per la durata. Allora, respirato la banca da bambino, mi sono dedicato alla cosa e ho fatto quello che io definirei l'imprenditore. L'imprenditore è uno che lavora in maniera dura, lavora giorno e notte, talvolta purtroppo per lui, anche sabato, oltre la domenica, o purtroppo per i figli. Però i miei non sono venuti così male, si vede che mia moglie ha fatto benissimo, non lo so. E bisogna tenere conto che è un'impresa e che la crescita va fatta con prudenza. Allora, le dicevo, noi avevamo 132, 150 dipendenti. Io le ridussi a 132 quando entrai, perché in quel momento non stavamo guadagnando bene. E oggi siamo diventati 5.700. Di crescita evidentemente ne abbiamo fatta. Avevamo 9 soccorsali. Adesso di soccorsali ne abbiamo quasi 300. Quelle 9 soccorsali erano tutte nel Bielese. Oggi siamo in tutta Italia. Avevamo una società, la Banca Sella. Oggi nel gruppo sono 30. La governance è stata curata da me con un'attenzione totale. Perché vedevo che i consigli di famiglia formati solo da familiari, specie quelli che avevano la mia età di oggi oppure erano più vecchi, erano consigli in cui si discuteva di tutto, salvo che del business. Quando ho preso onorato Castellino, notissimo professore di Torino, come primo consigliere indipendente, ecco che improvvisamente il consiglio diventò un vero consiglio. Quindi come governance abbiamo in media un terzo di consiglieri indipendenti, non legati a noi. Abbiamo un quarto, ma presto diventerà un terzo, di persone di altro genere, cioè di genere femminile. I sindaci sono totalmente indipendenti. Non sono il nostro commercialista, il nostro avvocato, eccetera. Sono indipendenti e come tali fanno i controlli che devono fare. Perché quando si cresce il bisogno di controlli, non solo quelli che dispone l'amministratore delegato e il presidente all'interno, ma anche quelli esterni sono indispensabili. Gli azionisti della banca sono un centinaio, l'utile, dopo anche col Covid, dopo i grandi accantonamenti per i nuovi investimenti e per le presunte perdite su crediti, che però non si sono ancora verificate, sono stati negli ultimi anni in media una trentina di milioni. Abbiamo avuto punte di 50 o 60, ma per vendite di partecipazione. Il core chat one di Banca Sella è oltre il 16%, quindi siamo capitalizzati in maniera adeguata. Bene. Respirare i valori dell'imprenditorialità, ma basta no. Occorre il senso del dovere. Occorre una grande capacità di decidere. Ci vuole una grande etica del lavoro e degli affari, dell'oddietà. bisogna pagare le tasse fino all'ultimo centesimo. Noi le paghiamo da sempre, le tasse fino all'ultimo centesimo. È l'unica soluzione che esista. Se non le paghi, prima o poi, qualche d'uno ti fa sparire. Bisogna avere la passione per l'innovazione. Sono in realtà i valori dei cavalieri del lavoro. I cavalieri del lavoro hanno uno scrutinio da parte del ministro, dai prefetti, dal ministro dello sviluppo economico e poi dal presidente della repubblica, parlo dei neonominati, dove tutti questi aspetti vengono guardati con estrema attenzione. E dato che dai dati che annuncerò fra pochi giorni, le aziende di cavaliere del lavoro vanno bene non solo quando sono nominati, ma vanno anche bene dopo che sono nominati. Evidentemente questi valori, questi principi, pagano. Bisogna saper correre rischi senza dubbio. L'imprenditore viene pagato per la capacità di correre rischi, ma non tali, qualora il rischio si verifichi, da mettere a rischio le imprese. Devono essere rischi piccoli. Se ne possono verificare anche due o tre insieme, ma se sono piccoli la crisi dell'azienda non viene. Quando vedete qualche azienda che va in fallimento vedete che i rischi sono stati grandi. Noi poi abbiamo un credo che è quello che secondo me ci ha fatto crescere, l'abbiamo, viene prima di me, che è l'amore per il cliente che ci dà il pane. Intendete bene, l'amore per il cliente vuol dire dargli il servizio migliore, avere la passione per fargli crescere il suo patrimonio, avere la passione per dargli credito, che ci ripaghi possibilmente, ma che quel credito gli permetta di crescere. E quindi veramente un'intenzione è fortissima verso il cliente, non solo teorica, ma nei fatti. In un'impresa sana, secondo noi, i collaboratori non hanno il diritto, hanno il dovere di dire la loro. Quindi i collaboratori che sono determinanti quando si cresce per far crescere l'azienda, partecipano perché possono parlare, possono criticare, possono suggerire. E l'arte del banchiere o l'arte dell'imprenditore è quello di ascoltarli, perché poi sono i clienti soddisfatti, l'amore per il cliente, che fanno le fortune dell'azienda, in qualunque sia il settore. Perché in ogni settore, se il cliente non ama l'azienda, l'azienda non ha fortuna. Per trovare i collaboratori bravi che vogliono venire, cioè l'azienda fortunata è quella che si trova che più collaboratori bravi vogliono venire, di quanto l'azienda non ne cerchi. Vogliono venire perché tengono che sia un ambiente stimolante, un ambiente innovativo, un ambiente che paga il giusto, un ambiente dove si può contribuire. E quindi bisogna farli diventare veramente favorevoli, entusiasti. Mi fermo per fare ancora negli ultimi cinque minuti, che mi sono autodato perché Stefano aveva preso i primi C10, per dire che la vita associativa, come avete visto dal mio curriculum lo vede, dall'ABI alla SONIME, ma all'UNIAPAC prima e poi l'APAF e poi l'AIDAF e poi la Trilateral e poi il Consiglio Italia-Stati Uniti, il gruppo dei 30, il gruppo europeo banchieri, l'Istituto internazionale d'etude bancaire. Quante riunioni ho partecipato da presidente o da partecipante? Beh, io ho sempre partecipato a quelle riunioni con un obiettivo, quello di imparare. E non potete immaginare di quanto io abbia imparato, imparato dagli altri, ascoltandoli, sentendo talvolta dei loro errori, ma sentendo anche delle cose ben fatte. Ho sempre avuto come metodo per la mia memoria davanti due blocnotes. In un blocnotes scrivevo quello che avveniva nella riunione. Utilizzo per la mia memoria ricordare più facilmente quello che era avvenuto o, se del caso, andare a vedere. L'altro blocnotes invece serviva per scrivere le cose che mi venivano in mente da quello che ascoltavo da fare a casa, da fare in azienda. Voi non potete sapere quante volte sono tornato, ho riunito i collaboratori che già si ammalavano prima che io tornassi, nel timore che io avessi portato altre 18 idee nuove ascoltate dai banchieri o dai non banchieri. al limite anche dei politici non è necessario soltanto per trattare di business. Infatti in queste associazioni molto spesso io ho trattato di questioni del tutto diverse dal business, ma che sono servite per analogia, come oggi capita, la contaminazione, per fornire idee, suggerimenti o anche cose da non fare. Io quindi ho imparato moltissimo. Devo proprio ringraziarli. La preparazione dell'UniAPAC e poi quella di APAF e poi di IDAF è servita a insegnarmi un altro aspetto, che non è quello di come si conduce l'impresa, per come si conduce l'impresa si va dai consulenti di impresa e tutto più, ma come si gestisce il rapporto tra gli azionisti e l'impresa. Come si gestisce la famiglia? Certo, a chi di voi avesse una famiglia di tre persone questo serve poco, ma se uno ha tanti azionisti invece serve veramente. E quindi dato che le imprese di famiglia sia in Italia che all'estero, forse di un po' di più in Italia, rappresentano una componente molto importante dell'economia e anche dei nuovi posti di lavoro. I nuovi posti di lavoro si trovano proprio nelle nuove imprese familiari, specie nelle piccole e medie. Devo dire, ritenevo, ritengo di aver fatto anche l'interesse collettivo, non solo l'interesse aziendale, che è sempre un sentimento che allarga il cuore, che ci si mette aperti, non si lavora solo per il proprio portafoglio. Quindi l'impegno personale e morale verso il successo dell'azienda di prima e verso le associazioni dall'altro è molto importante. Quello che facciamo in quegli otto anni in cui io fui il presidente dell'ABI, oltre che il rinnovo del contratto di lavoro, che oimè era allora troppo costoso per le banche, si dovette fare una riduzione degli automatismi e di quant'altro piuttosto importante, fu aiutato da Profumo e da Passera in quegli anni, che avevamo noi in mano la delica per trattare col personale. E quindi un grande apprendimento, un grande interesse, un 25% del tempo alla famiglia e un 25% del tempo alle associazioni, come le chiamano i francesi. L'ultimo 50% tutto all'azienda e alle cose personali. Anche l'innovazione si impara andando con gli altri, perché si ascolta quanto hanno fatto di bene e come va. Spesso lo raccontano e quindi si apprende cosa fare. Il lavoro, la posizione che abbiamo oggi, importante nel sistema di pagamenti in Italia come banca relativamente piccola, deriva proprio dal fatto che io imparai quell'innovazione diventando presidente della SIA per un certo periodo. Sono stato nominato cavaliere del lavoro nel 91, fu una grande emozione, attribuì quella nomina ai miei collaboratori e non a me, perché senza il loro contributo non avremmo potuto crescere. Ma nel 91 avevamo solo 650 dipendenti, eravamo cresciuti sì e 110 succorsali. La crescita poi è proseguita, perché noi lavoriamo in un settore, quello bancario, dove si è, scusate il brutto termine, fra virgolette, condannati a crescere. Erano allora presenti in Italia 194 banche di famiglia. Oggi di quelle 194 ne sono rimaste 8. Una di quelle 8 siamo noi. Questo pensate quanto forte è stata la compressione della concorrenza e anche, diciamo così, le conseguenze di qualche errore che non avrebbe dovuto essere fatto. Noi qualche errore l'abbiamo fatto, ma pochi, piccoli, rischi piccoli e quindi siamo riusciti a diventare grandi. Non so, caro Stefano, se questo era quello che lei voleva sentirmi raccontare, però sono pronto, rispondendo alle domande sue o degli altri, a, diciamo, mitigare tutti gli errori che avessi fatto e a integrare quanto fosse necessario. Grazie. Grazie, grazie dottor Maurizio. Mi porto a casa anche io da oggi i due block notice. Ne avevo uno, lo dividendo in due pagine, come facevamo all'elementario le medie, no? Dividevi la pagina in due, però è molto più funzionale. Quindi io, seppur non più tanto giovane e non è un rimpianto, anzi, perché si possano aiutare i veri giovani, come quelli che sono collegati, continuo a mettermi in modalità di ascolto. Prego, per favore, di avere o di acquisire il dono della sintesi, quindi un minuto per la domanda, anche perché, appunto, la sintesi aiuta l'efficacia dell'esposizione e che sia una domanda, un consiglio, una richiesta o un bisogno. Restiamoli in un minuto, così che, appunto, il dottor Maurizio possa rispondere a più di voi, rispettando quelle 19 e 30 che ci siamo dati a inizio incontro. Grazie ancora veramente tanto per questa preziosa prima parte di conversazione. Grazie. Stefano, posso fare una domanda? David Berera. Prego, ci mancherebbe. Allora, dottor Selle, innanzitutto potrei poterla aver ascoltata e illuminante tutto quello che ci ha raccontato. La domanda che le voglio fare è la seguente. Che consigli dà a un giovane, di buona famiglia o no, completamente rilevante, che vuole perseguire il far banca da un punto di vista imprenditoriale e non come manager. Qualcuno che vuole creare una banca, come ha fatto ad esempio la persona che le conosce bene, Corrado Passera, o altre persone in questi anni, magari mezzo Fintech, che voi conoscete molto bene perché avete fatto il Fintech Discret, o comunque proprio con l'idea di fare una banca commerciale, o una banca d'affari. Guardi, molto volentieri, il primo consiglio in realtà è veramente di desiderare di farlo perché talvolta qualcuno fa una cosa e non la desidera tanto. Se non lo si desidera non si potranno fare quei sacrifici che sul lavoro sono indispensabili, tanto più se si fa una nuova banca dove ci vuole un capitale minimo e dove ci vuole un'organizzazione grande perché oggi lei sa, le banche sono soggette alla Banca d'Italia, ma la quantità di controlli e di dati da comunicare e di leggi da rispettare e di regolamenti è una cosa veramente straordinaria. Quindi, primo, desiderarlo. Secondo, un grande spirito di sacrificio. Non si manda avanti una banca vecchia lavorando 17 ore al giorno, per una nuova ce ne vogliono 20. Noi siamo diventati soci al 10% dei limiti della banca di passere, ma vedo quanto lavora lui e i suoi collaboratori, moltissimi. Poi occorre avere un atteggiamento che non è finito lo studio. Perché? Perché la formazione permanente sulle nuove norme e quant'altro è veramente indispensabile, se no il concorrente ti batte. Oggi però in banca, e con questo concludo per essere breve, poi si potrebbe scendere molto più nel dettaglio, ma non mi pare utile, bisogna ricordarsi che è una delle aziende che è più digitalizzata al mondo, già oggi, ma che diventerà ancora molto più digitalizzata. Lì Pietro Sella, mio figlio, che è l'amministratore delegato della Capogruppo, sta investendo moltissimo nella digitalizzazione, nell'automazione e quant'altro, ma nel servizio automatizzato ai clienti. Noi abbiamo lanciato AIP, la società che adesso è di proprietà del 50% di passere al 50% nostro. Abbiamo messo 135 anni a fare 750.000 clienti e abbiamo messo quasi due anni a fare 1.300.000 via AIP. Quindi il digitale, perché AIP è una banca la quale non ha sportelli, tutti i clienti vengono solo via internet, via digitale, via telefonino, quanto lei vuole. Ecco, allora, in buona sostanza, bisogna pensare che si entra nel settore, secondo me, più digitalizzato che ci sia oggi e che sarà ancora molto più digitalizzato, perché verranno in concorrenza grandi aziende digitali. Grazie, grazie dottor Maurizio, David Berrera, socio UCI di Milano, imprenditore non solo in finanza, ma anche nell'industria. Nel minuto che vi prendete per favore per fare la domanda o il contributo, magari dite giustamente anche nome e cognome e proprio in brevissimo cosa fate, così è utile per tutti i nostri nuovi amici collegati. E diamo il via anche un po' un'autogestione, senza anarchia, ma con grande rispetto dei tempi di tutti, quindi volentieri alzare la mano in chat e prendere anche la parola come Adrien e chiunque voglia intervenire dopo. Allora, prima di tutto, complimenti Stefano, eventi di alta qualità, come sempre sei bravissimo. Siccome abito a Lugano, mi permetto di fare una domanda un po' più professionale al nostro speaker. Abbiamo visto che i credit sui ultimamente, per negligenza oppure per altri motivi, ha fatto dei investimenti sbagliati, con perdite miliardarie. Cosa potrebbe suggerire a un cliente di questa banca? Il Credit Suisse è una delle banche più grandi della Svizzera, insieme all'OBS e all'SBS. Non vedo che ci siano problemi di stabilità. Diciamo che in quel caso, forse, il finanziamento a leva che lui aveva fatto a qualcuno che sosteneva una società quotata, era di dimensioni grandi. Era quello che dicevo prima, bisogna saper prendere rischi, ma bisogna saper prendere rischi non troppo grandi. Noi, per esempio, abbiamo un limite importante nel credito erogato a un singolo cliente. Se il cliente è troppo grande e ci dice, io non lavoro con una banca che mi fa un credito così limitato, pari al nostro frazionamento, noi gli rispondiamo, ci dispiace moltissimo, speriamo di poter diventare grandi e servirlo, ma pazienza, con quel cliente non lavoriamo. Allora, anche il Credit Suisse, perché ognuno ha le sue dimensioni, grandissima banca da me molto stimata, che conosco da 50 anni, è una banca che in questa operazione specifica, con Nomura, ha preso un rischio troppo grande. Altre grandi banche sono uscite in tempo e forse hanno peggiorato la perdita del Credit Suisse, perché era un finanziamento di qualcuno che speculava al rialzo. Se ho capito bene, poi è sempre difficile, ma insomma, leggendo i giornali, non ho informazioni privilegiate. Grazie. Grazie, grazie mille. Vedo collegati il nostro Benedetto Dele Sitte, presidente futuro del Lucide, Clementina Rosato, vicepresidente dei Giovani di Milano, Andrea Coppola di Parba. Mi raccomando, scatenatevi perché il tempo sta per finire. Se mi permetti, Stefano, o se volentieri... Ottima, ho imboccato, ho imboccato bene. No, allora, ne approfittavo perché l'intervento sicuramente molto interessante del Cavalier Sella. Io vengo, sono come Ucid Parma, diceva Stefano, però vengo dal... Sono nativo del Capodileuca, dove, lei saprà bene, Cavaliere, voi avete trovato un partner strategico, che è quella della banca Ardeti Galati, che fu fondata ormai quasi un secolo fa in quel di Presidice, che è un paese vicino a me, e che vedo anche collegato il collega del gruppo di Parma, mio conterraneo Cosimo Schiavano. Quindi io dico, allora come adesso, voi avete, le citavo prima, la grande campagna di acquisizione e diffusione che in Italia c'è stato, che poi ha portato ai grandi gruppi bancari che oggi noi vediamo ancora attivi e che ovviamente hanno un po' assorbito le varie realtà locali, dai crediti rurali fino alle piccole banche di famiglia. Quale è il vero, diciamo, criterio che deve essere cardine, principe, per l'attendibilità di un partner che poi diventa cruciale come l'Ardeti Galati fu allora come oggi? Quindi cosa bisogna guardare forse per un vero partner di prestigio da affiancare nella propria attività, tra l'essere oggi imprenditori o liberi professionisti? Intanto mi permetta di fare una piccola precisazione, io ho rapporti ottimi con quasi tutti gli azionisti dell'Ardeti Galati e fra l'altro alcuni loro dirigenti di alto livello sono seduti qua a Biella, sono venuti nella direzione generale di Banca Sella. Quindi questo dimostra che avevano persone valide e di valore, manager, bravissimi. Parlando invece da un punto di vista dell'azionista, quando due banche si incontrano bisogna capire quali sono le intenzioni. La nostra intenzione, come fu quella del credito emiliano per esempio, fu di crescere per acquisizioni e noi quella crescita che l'ho citata la facciamo anche incorporando 18 piccole banche in Piemonte, in Puglia, in Sicilia, in Trentino, in altri posti. La nostra proposta ai soci dell'Ardeti Galati di allora era diventate soci e abbiate verso l'azienda lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo noi. Devo dire che quasi tutti hanno fatto quella scelta. Hanno un atteggiamento non verso l'Ardeti Galati, che non c'è più perché l'abbiamo incorporata, ma verso la Banca Sella, esattamente uguale a quello degli azionisti Sella. Quindi noi siamo con loro, felicemente azionisti, ognuno in proporzione alle proprie azioni e siamo molto contenti. Certamente è stato un contributo alla nostra crescita, ma la domanda vera che secondo me andrebbe fatta, ma loro potevano cavarsela, restando stand alone, senza venire da noi? La risposta ovviamente devono darla più loro che io. Io credo che a loro sia convenuto. Penso cioè che altri che hanno fatto scelte diverse, poi non gli è andata bene. Quindi sono contento che siano venuti, li teniamo in palmo di mano, li trattiamo al meglio, quasi tutti. Sa, se noi non fossimo cresciuti, forse sarebbe venuto qualcuno a dirci che voleva comprarci. Effettivamente fino alla fine degli anni 90 ebbi moltissime banche italiane e straniere. dato che rispondemmo da tutti di no, che noi non ci vendavamo, alla fine ci sono stoffati di venire a perdere tempo. Quindi adesso qualche offerta ancora c'è, ma insomma molto meno. Noi vogliamo continuare a diventare ancora più grandi. Lei sa che da un punto di vista del digitale, della banca digitale, siamo fra i più avanzati del paese. Scusi, mi faccio un'autoloda, anzi no, la faccio a Pietro, perché è tutto un merito suo, più che meno. Stefano, io prenderei la parola. Grazie, benedetto. Per associarmi ai complimenti per l'Accademy di oggi, perché il Cavaliere Sella in pochi minuti ci ha trasmesso veramente quelli che sono i principi che hanno ispirato veramente la generazione che ha fatto l'Italia. Io penso tutti noi, pur non essendo magari direttamente correntisti della banca, conoscono quella che è una delle banche, soprattutto sul digitale, più avanzate. E vorrei sottolineare solo questa cosa, senza moralità non c'è longevità, ci ha detto appena il Cavaliere Sella. Spesso si parla anche delle banche, insomma sotto i profili dell'etica, ne abbiamo sentite tante, c'è stata la crisi dei subprime negli Stati Uniti, però le banche le abbiamo inventate noi italiani, e direi in realtà le abbiamo inventate noi cattolici, e attorno alla banca c'è un'etica, soprattutto dei soggetti manager, imprenditori che operano nel settore della banca, che è, come ci ha testimoniato oggi il Cavaliere, veramente fondamentale, un elemento fondamentale. Io faccio solamente una domanda, proprio in virtù del fatto che Sella in qualche modo è fra le banche di frontiera sulla digitalizzazione, tanti giovani che oggi si avvicinano, sia per posizioni diciamo manageriali, sia per esperienze di tipo imprenditoriale, al settore bancario, si chiedono di fronte a questi processi, che ruolo avrà il fattore umano? Perché ovviamente sappiamo anche la questione della chiusura di tante filiali, di tanti sportelli, la banca si sta trasformando. Ecco, in due battute Cavaliere, lei come vede da questo punto di vista il futuro? Intanto bisogna andare minimamente più a fondo, lei me lo permetta, per fasce di età. Allora, tutti coloro che oggi hanno 40-50 anni, che non sono nativi digitali, continuano a avere bisogno di un rapporto con la banca. non più falchente come prima, perché versamenti, bonifici, pagamenti di bollette, pagamenti di ristoranti, eccetera, oramai si svolge tutto in maniera digitale, carte di credito, carte di debito, sebbene pensi che noi siamo a 10, quanto utilizzo, e la Svezia mi pare che sia a 80, quindi presumo che ci sarà una grande crescita di utilizzo di quei mezzi da parte di tutti. e devo dire, in AIP, per esempio, che è tutto digitale, qualche uno sopra i 70, o sopra gli 80, o sopra i 90, ce l'abbiamo come cliente, in quel milione e tre, quindi anche quelli meno giovani imparano, eccetera. Allora, certamente, ecco, noi, è un dato che è pubblico, abbiamo il 91% di operazioni che è fatto dai clienti, noi con il nostro personale facciamo solo più il 9%. Quando io sono entrato, noi facevamo il 100% delle operazioni, noi, sui conti. E lo fanno via telefonino, via iPad, via televisione, via strumenti automatici, via i POS. Allora, è evidente che occorre meno personale, però la qualificazione cambia, devono imparare a fare i consulenti, e la consulenza, su aspetti, diciamo, di vita problematici, allora, pensiamo intanto alla gestione del patrimonio, pensiamo a come investire quei pochi risparmi. una volta il deposito a risparmio dava il 3,75, poi quando c'è terminata la grande inflazione ha dato anche il 5 o il 10, adesso non c'è più reddito, quindi bisogna potersi avvicinare a delle scelte un po' diverse, la scelta fra il capitale di rischio e il capitale di debito, oppure altri investimenti, se c'è la casa, la banca può fornire il mutuo, se c'è un investimento di tipo diverso sul lavoro pure, allora aumenti la componente consulenza, diminuisca la componente operazione di sportello classica, quella che una volta si faceva con le banconote o con le monete, lì, secondo me, il destino, specie con l'euro digitale, è andare assolutamente a zero e quindi si immagini due cose, prima, un mestiere molto più ricco di contenuti rispetto a prima, perché le assicuro che contare con tante è una delle cose più noiose che lei possa trovare nella vita. Quando uno fa il cassiere tutto il giorno conta con tante, veramente, che dà al cliente o che riceve dal cliente, è veramente un grande dispiacere. E poi, però, un minor numero di dipendenti. I bancari erano 340.000, oggi sono 280.000, se fossimo paragonati i bancari che ha la Finlandia, dove il 35% dei cittadini non è entrato mai nella vita in una banca e mai ci entrerà, forse dovremmo scendere a 180.000. Pian piano, man mano che il tempo passa, i più vecchi vanno in pensione e vengono sostituiti da un minor numero di giovani. Ma questo è il mestiere, non c'è niente da fare, la digitalizzazione porta a quello. Poi nascono altri mestieri, fuori banca, che scrive software, che fa i sistemi di pagamenti elettronici. Non credo che complessivamente finiremo con meno occupati, ma meno direttamente in banca e soprattutto meno nei vecchi mestieri. Tutto perché la banca abbia la moralità più completa, perché senza moralità il banchiere ha finito di fare il suo mestiere. Vedo da tempo la faccia di un giovane, però, non vedo più lei che mi ha posto la domanda. Io ci sono, eccomi. Ah, ecco, adesso è riapparso. Applaudivo. Ah, grazie. Però non si sentiva. Troppo gentile. Grazie mille. Scusate. Ecco qua, il giovane che vedevo. Scusate, volevo chiedere se posso fare una domanda. Non vedo come alzare la mano digitalmente, quindi... No, volevo chiedere, la vostra banca si è basata fin dall'inizio col principio di far crescere la comunità in cui si è trovata e quindi piano piano ampliando anche gli sportelli anche la comunità e gli ambiti di azione. volevo chiedere però a questo punto come mantenere il rapporto con gli imprenditori specialmente adesso quando le innovazioni sono molteplici su diversi campi e spesso molto specialistiche tecniche ma come avevo già accennato noi abbiamo fra l'altro dei nostri dipendenti che vanno a trovare gli imprenditori quindi non è nemmeno l'imprenditore che viene in banca è il banchiario o banchiere che va a trovare e dove si esaminano il minor numero di volte rispetto al passato tutte le esigenze dell'industriale dell'imprenditore e si cerca di venire incontro e risolvere perché la capacità di risolvere i cosiddetti problemi è indispensabile se no che tipo di servizio do uno ha da fare un pagamento in Giappone l'altro deve incassare da un'esportazione che ha fatto ad Abu Dhabi il terzo ha un momento di crisi perché finanziariamente ha fatto troppi investimenti ha troppo magazzino e quindi vuole un fido temporaneo perché se no sconfina adesso con le nuove regole europee non si può più sconfinare bisogna stare dentro ai fidi che vengono concessi e allora una delle caratteristiche è di dare la buona soluzione di dare una soluzione che soddisfi il cliente e attenzione che non sia troppo costosa la banca è un mestiere dove se si vuole si possono praticare condizioni molto vantaggiosi per la banca ma è l'inizio della fine perché poi la banca perderà i clienti oppure prenderà solo i clienti più rischiosi perché sono quelli che pagano di più perché nessun altro gli viene in conto allora bisogna avere la capacità scriveva sempre mio nonno già negli anni venti del secolo scorso scriveva e lui morì nel 34 farò fare maggior strada alla mia banca allora erano pochi dipendenti proprio perché mi accontenterò di utili piccoli ma continui e meno rischiosi questa è una regola che vale per qualunque dimensione abbia la banca e poi per l'appunto vede come io sto trattando con lei adesso con voi benissimo quanti clienti oramai trattano con noi via zoom o via altri mezzi di collegamento e moltissime cose si risolvono guardandosi in faccia sorridendo spiegando oltretutto poi io non sono capace troppi anni ma i più giovani fanno vedere al cliente il documento contabile o la fiduzione o il documento giuridico sullo schermo in modo che il cliente lo può vedere e lui poi può stamparselo se vuole quindi lo spostamento fisico ecco diciamo un'altra verità che per mio conto nel mondo bancario il lockdown è stato uno dei cambiamenti maggiori che esistano e che non tornerà indietro abbiamo fatto set in in un anno quello che avremmo fatto in sette forse non ci saremmo neanche riusciti in sette quindi le nuove tecnologie sono veramente un aiuto straordinario al cambiamento del nostro mestiere Stefano sono ancora cinque minuti volentieri se c'è qualche domanda sì 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 ascoltiamo Elena Buson che mi aveva chiesto la parola buonasera sì intanto grazie per la testimonianza veramente molto illuminante io avrei una domanda anche alla luce di quello che è lo scenario attuale chiaramente qual è secondo lei il ruolo prospettico che possono avere appunto le banche il settore bancario nel rilanciare appunto gli investimenti e quali sono le sfide che possono cogliere le opportunità che possono cogliere da questo periodo che purtroppo non è uno dei più floridi per l'economia guardi Buson lei dovrebbe essere di origine veneta o mi sbaglio sì corretta bravo senta la banca è quella che fornisce al cliente i mezzi finanziari il credito quando lui non possiede in proprio mezzi tali allora l'abilità che poi è l'arte del banchiere l'abilità è quella di dare i soldi a tutti coloro che li chiedono ma che si prevede che siano in grado di restituirli perché le ricordo nel mondo l'85% delle crisi delle banche negli ultimi 120 anni ancora oggi è così deriva da crediti maldati non dal caso Credit Suisse prima menzionato la banca che eroga male il credito non lo riesce ad avere indietro e si mangia tutto il patrimonio e va in malore però il banchiere ha una responsabilità anche morale oltre che economica di dare a chi merita non è sempre facile capire chi merita mio padre scriveva nel 54 che la nostra banca in quegli anni aveva fatto più crescere allora eravamo solo a Biella le piccole e imprese e medie imprese del bielese di tutte le altre banche messe insieme perché i bielesi sono gente molto onesta molto perbene e noi avevamo fatto credito senza avere una garanzia senza avere un immobile un terreno una casa dei titoli niente c'era la persona io ho le mie braccia e noi davamo credito e come siamo stati ben ricompensati perché ci hanno restituito allora oggi la responsabilità per la ripresa dopo il covid è straordinariamente nelle mani delle banche perché ci vuole veramente il credito e in fondo i provvedimenti presi in tutta Europa anche negli Stati Uniti ma anche in Italia di dare garanzia alle banche che erogano credito che aspettano le moratorie è volto a dare un aiuto alle banche che possono venire incontro ma poi l'aiuto può durare fino a fine anno fino a fine 2021 poi prima o poi quell'aiuto non ci sarà più e allora noi banche dovremo a nostro rischio e pericolo valutare bene i clienti capire il mestiere che i clienti fanno valutarlo valutare le prospettive e finalmente erogare nessuna banca può erogare credito senza fare qualche errore e quindi non performing loans non potranno essere eliminati ma avevamo erogato troppo in passato e quindi avendo erogato troppo abbiamo avuto grandi sofferenze dal 2008 al 2016 adesso molti banchieri molte banche hanno imparato la lezione e quindi io penso che errori di quel tipo ne faremo molti meno oltretutto siamo molto meglio patrimonializzate perché le regole ci hanno imposto di patrimonializzare le banche in cattiva salute sono emerse sono state comprate da altre banche o aiutate dagli stati ma in tutta Europa e non solo in Italia e quindi abbiamo una condizione del sistema bancario più forte in relazione ai rischi che dovremmo prendere grazie 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 dottor Maurizio prima di lasciarci con gli ultimi due minuti è sfidante le chiedo un ultra dono della sintesi diciamo due battute veloci una visto che lei frequenta anche tanti politici quando magari sarete voi promotori ma quando gli italiani si potranno permettere di votare dal proprio telefonino questa è un po' la nuova sfida la seconda è un detto diceva piccolo è bello ma grande è meglio se avete avuto già un po' di corteggiamento da qualche banca più grossa all'ilà dei nuovi proprio come l'avete gestita in termini di visione strategica internamente e se lo gradisce se no lasciamo le altre domande le nuove criptovalute e soprattutto un po' diciamo l'arrivo forse nel settore bancario dei colossi Amazon dei colossi Facebook insomma come le vede insomma al di là dell'esperienza che magari non hanno sono dei veri competitor e magari se sì non a livello completo ma di che settori scelga lei sono magari competitor nel sistema dei pagamenti perché è probabile che intervengano non non vedo per ora grandi rischi di preve certamente le banche noi in particolare ci stiamo attrezzando da morire perché perché vogliamo essere così efficienti così bravi come loro possano diventare ma la base chi vince vince chi ha un passo davanti agli altri certamente la dimensione conta e in fondo un milione 300 mila clienti sono già qualcosa rispetto a chi è più piccolo guardi in questi ultimi due giorni ho sentito due o tre bebbie dove si parlava dell'industria e non della banca ma dove si diceva piccolo non è più bello grande è bello io sono perplesso perché avendo 79 anni fra un mese ho sentito questa storia del grande è bello piccolo e brutto almeno quattro volte negli ultimi 50 anni quindi ogni dimensione ha il suo segmento il suo settore la sua industria certo che se lei vuole perdersi a produrre automobili in un'officina non c'è niente a fare la Volkswagen Stellantis la batteranno non c'è dove dipende dal mestiere ma quando i mestieri sono fattibili anche nel piccolo battere il piccolo imprenditore che lavora giorno e notte è particolarmente difficile anche se uno diventa enorme quindi ci sarà un buon equilibrio diciamo che la verità è che noi abbiamo perso Montedison abbiamo perso altri e in Italia che abbiamo poche grandi aziende Fiat è italiana però adesso è mezza francese è il centro quindi sono constatazioni non sono critiche quindi ecco quando vengono da noi perché vogliono come le ho detto non vengono più perché sa è normale in un modo bancario prendere un appuntamento vorrei prendere un appuntamento per parlare con il Presidente ah bene e di che argomento vuole parlarmi ma no è un argomento riservato non vorremmo dirlo lo vorremmo dire di persona senta abbia pazienza io penso che lei voglia dire che è interessato a comprare la bancasella ma come fa a indovinare perché lo vedo già non me lo vuol dire quando non me lo vuol dire è sempre che ci vuole comprare non venga perde tempo piacere di conoscerla di offrirle un caffè ma non serve si preoccupi se io fisso un appuntamento con lei se lei fisso un appuntamento con me la colgo volentieri no dico lei che dice a chi le ha chiesto un appuntamento sono io che voglio fissare un appuntamento con lei comunque se vuole mi fa chiudere con questa sua battuta con il ricordo di ciò che ho detto prima è il cliente che ci dà il pane quindi a ogni nuovo cliente noi facciamo tappeti d'oro cerchiamo di servirlo al meglio delle nostre capacità e questo non è una forma per dire a chi ci ascolta che apre il conto in bancasselle però se lo facessero noi siamo onorati e non siamo mica contrari perfetto perfetto la ringrazio tanto dottor Maurizio a nome sicuramente di tutti i giovani dell'UCID nazionale delle sedi locali e di tutti gli amici anche che ci hanno seguito stasera e la contatteremo a breve per magari cercare di proseguire la collaborazione anche sotto altre vesti quindi grazie grazie a lei alla sua famiglia e le auguro una buona serata anche a nome di tutti comunque ringrazio io che mi avete ascoltato con pazienza che non mi avete sgridato che mi avete ascoltato e sarà un piacere eventualmente fare altre comunicazioni per me è stata una serata vista l'arricchimento delle domande ben spesa grazie grazie buona serata a tutti